Si apre video? Questa è l'ultima sera a Miami. Mirate che confusione, che bordello ci sta. C'è un po' di vento stasera, non si sta bene. Il locale è cubano. Amore, andiamo di là. Diciamo! Diciamo! E non ci vanno. Peccato che se ne sono andato, Fabrizio. Eee... che cosiddetta. È molto caliente! Ah! Caliente! Questa è la vita natura di South Beach in Miami, la nostra vacanza è finita. La nostra vacanza è finita. Alla prossima. Alla prossima. Che cos'è un pitone? Un pitone. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.